ah cari ragazzi bentornati su quei due su server 2 sto giocando a un gioco che mi ha regalato Matteo che odio con tutto me stesso lo ricordiamo anzi no lo ricordiamo perchè questo probabilmente uscirà prima o dopo un altro video non lo so però Matteo è un tipo che mi ha regalato un sacco di giochi brutti ti odio Matteo e questo è Bad Rats e non si capisce un cazzo di niente in questo menù di merda madonna il topo sta scendendo con un aspirapolvere col vento che gli sostiene l'ombrello capite? io non ho ancora inizio a giocare c'è un topo che soffia un gatto un gatto nella gabbia mentre scorreggia sta scorreggiando sta fumando oddio poi c'è il topo kamikaze e c'è c'è due donna oddio ok iniziamo a giocare madonna quante sono brutti i caricamenti io spero che questo gioco sia del 2000 non ho visto niente ragazzi allora noi dobbiamo prendere il ratto posizionarlo sulla cassa premere no prendo il bidone ci metto il topone e premo il pleione no però così aria allora ce l'ho fatta ecco il replay cioè com'è ma ma l'ho fatto prima è totalmente randomico prima l'avevo fatto scusa il gatto che si è autodistrutto oddio allora ho messo il coso il camion qua è esploso tutto è esploso ho sbagliato qualcosa il tipo deve far scendere la palla e questo lo deve colpire e dai dai che cazzo forse questa è la volta buona oh e il gatto implode ogni volta quindi dobbiamo torturare il gatto beh figo torturiamo i gatti oh 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 merda ok il piano è far arrivare la palla al battitore per accendere il no no dai dai che ce la fai madonna se ci arriva il gatto nel microonde ovviamente adesso prenderà fuoco le fiamme stanno uscendo fuori è un gioco truculento guardate come gira il ratto vabbè dai non è bruttissimo cioè per il gatto è brutto livello 4 colpisci la bomba con la palla e fai esplodere il gatto solo la palla può attivare la bomba oh vediamo che cosa abbiamo abbiamo un ratto grassissimo che cazzo dobbiamo fare allora dobbiamo far rimbalzare la palla facciamo così povero gatto però allora proviamo a fare la catapulta con una catapulta se lo mettiamo qua che dici riusciamo? se riusciamo la prima botta siamo dei geni incontrastati del male dove è andata la palla? dove è andata la palla? che cazzo mangi tu? no eh è troppo ok così play ce l'ha ah dai troppo alto no cazzo di pochissimo ragazzi e vai oh gatto di merda io non so se questo tipologia di video vi può piacere però è divertente fare esplodere i gatti in questo caso dobbiamo torturarli dobbiamo colpire la motosega con la palla eh cadena ok minchia ci abbiamo tutti allora dobbiamo far saltare la com'è cazzo la fai saltare la allora col dinamitardo il dinamitardo fa esplodere la palla con il tizio e la palla va lì non lo so quasi quasi ragazzi quasi il topo spezzato quasi abbiamo una speranza troppo vicino la riproviamo quasi cazzo e come faccio ok ok non era così che funzionava allora credo che farò così vai no decisamente no praticamente questo fa distruggere questo e poi la palla rimbalza no decisamente no forse la soluzione è più semplice di quello che immagino ah così è un ciclo infinito però no ce l'ho fatta è la motosega che spara laggi luminosi laser soprattutto però ce l'ho fatta ma va bene ok questo è un altro quadro cosa abbiamo a disposizione un ombrello un battitore e il trattore dobbiamo incendiare il gatto c'erano degli esplosivi qui come la palla ovviamente deve colpire la candela allora vediamo un po' facciamo questo vediamo un pochino gli diamo l'ombrello vediamo un po' che succede ah no minchia ma è tostissimo a livello di tempi ce la possiamo fare dai 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 giusto giusto tira dai dai si si no c'eravamo quasi eh vai a livello di tempo ci siamo no no dove cazzo vai ok ci siamo bella bella non so come sia succeduto comunque sto gioco per merda che è per per merda che è è divertente mi piace mi sta piaciando a voi no mi sento solo se non mi dite che vi piace le cose si fanno più difficili e truculente la palla deve fare il suo giro e arrivare qui a sparare e in effetti il gatto se la ride perché c'è questo che fuma ah quello che fuma forse accende questo allora questo lo dobbiamo mettere per forza di cose qua flippato ruotato in per poi mi serve il trattore che spinge la palla questo no però in realtà il gatto fuma questo questo lo mettiamo qui che non serve a niente e questo lo mettiamo no però ce la potremmo fa lo mettiamo lo mettiamo qui così scende oh oh no non deve partire adesso forse forse madonna madonna la gravità di sto gioco ah il gatto fumatore spinge ok flippiamo questo tipo mettiamo qui e lo facciamo spingere proviamo oh muo esplode muo esplode muo esplode niente troppo e e e quello intanto si fa i cazzi suoi allegramente e questo lo buttiamo da sta parte vediamo che succede esplodi ok vai vai dai che ce la facciamo al walk bar esplodi perché se no mi rimandarà bella come cazzo ha fatto esplodi perché se no mi rimandarà bella come non me lo chiedo ragazzi bella bella ma povero gatto con un buco in testa è tristissimo adesso si guarda ancora ok è morto vabbè ragazzi io di sta merda ho fatto anche troppo però ditemi se vi piace perché in effetti è una merda ma è anche un pelino divertente mi fa schifo dirlo che merda ok fatemi sapere qui sotto io al massimo lo faccio ciao ciao ciao